Ma la tempora currunt e così i sindacati scrivono alla provincia prima che anche l'ente di Corso Trieste soffra le stesse pene di Palazzo Castropignano. CGL, CISL e UGL hanno fatto seguire all'Assemblea Generale con i Dipendenti una missiva indirizzata al Presidente Domenico Zinzi e al Direttore Generale Raffaele Picaro, il cui testo è riportato integralmente sul sito campagnacentro.it. Fin troppo chiaro il messaggio a preoccupare le organizzazioni di categoria e il passaggio previsto per il 1 gennaio 2012 del ciclo di gestione dei rifiuti nelle mani della provincia e il conseguente assorbimento nella Gisec, società provinciale, di circa 1000 lavoratori del consorzio rifiuti. Ebbene, se così è, a rimetterci non dovranno essere i dipendenti già in forza all'ente, che evidentemente dovrà reperire ulteriori risorse per i futuri lavoratori della Gisec. Queste le premesse, i sindacati chiedono l'istituzione di un tavolo di lavoro che individui gli sprechi e impieghi il 50% delle somme recuperate per un fondo di produttività individuale. Il modo in cui procedere viene snocciolato in quattro punti. Eliminare dal fondo aziendale l'importo per gli staff interni, eliminare il lavoro straordinario in alcuni settori, non rinnovare incarichi a tempo determinato, comandi e distacchi che gravano sul bilancio dell'ente, porre fine alle tante e troppe consulenze, tutto ciò per salvare le indennità che rappresentano, così scritto nella lettera dei sindacati, il giusto corrispettivo di un impegno costante relativo alle responsabilità assunte nella gestione delle proprie funzioni da parte dei dipendenti di fascia B, C e D.